Signora Presidente, Signor Presidente del Consiglio, in questi giorni c'è stato un revival sui media, ma non solo, volto a ricordarci Patria, Italia, quasi che alla nostra parte politica, quella di Fratelli d'Italia, questi fossero sconosciuti o li dovessimo rinverdire. Ebbene, mi sia consentito di dire che la destra politica è stata una forza parlamentare che dal 1948 ha occupato questi banchi, non è una parentesi elettorale e non ha certo peccato sotto il profilo di portare l'italianità in politica. Lo abbiamo fatto negli anni 50, nella battaglia vittoriosa per Trieste che tornava all'Italia. L'abbiamo fatta nella fine degli anni 70 contro il trattato di Osimo che regalava terre italiane all'ex Jugoslavia. L'abbiamo fatto nel 2004, Signor Presidente del Consiglio, quando ci siamo battuti per l'approvazione di un'illegge che desse dignità ai martiri delle foibe e riconoscesse il sacrificio delle vittime dell'esodo istriano Giuliano Dalmo. Ma le dirò di più, questi banchi hanno visto personaggi che si sono alternati che alla bandiera di partito hanno sempre anteposto la bandiera tricolore. Vede, Signor Presidente del Consiglio, sia ben chiaro, nessuno ci può dare lezioni anche sul fatto di aver tenuto in alto quella bandiera. E l'abbiamo fatta in periodi in cui, legittimamente, ma all'opposto di noi, altri ritenevano e pensavano che la riscossa del popolo passasse dal trionfo di un'altra bandiera, la bandiera rossa. E dirò di più che anche rispetto al recupero alla comunità nazionale del senso e del valore di patria, beh, eravamo in pochi a destra che chiamavano l'Italia patria. Siamo lieti che in questi ultimi giorni la stragrande maggioranza delle persone intervenute si sia riconosciuta in quella che era una nostra ben precisa posizione politica. E le dirò di più, quando abbiamo dato vita a questa forza politica che si chiama Fratelli d'Italia, non abbiamo pensato di dare un nome affascinante ad una ditta o ad un'impresa commerciale. Per noi questa è una comunità di valori e di destino. E allora le ragioni della nostra scelta rispetto a quella che è indubbiamente una proposta politica diversa dalle ultime del passato, beh, è una scelta politica che ci deriva anche da un impegno che ci siamo assunti fin da giovani. Quando ci è stato insegnato che la destra o è coraggio o non è, che la destra è coerenza o non è. E a proposito della coerenza, signor Presidente del Consiglio, l'avessimo dovuta confondere con la convenienza, beh, noi avremmo accettato una proposta di partecipare a questo Governo allargato, avremmo anche noi i nostri rappresentanti su quei banchi. Ma la coerenza non è convenienza, così come il coraggio non è responsabilità. E allora noi, come Fratelli d'Italia, abbiamo fatto una scelta che è di ragione e di cuore al tempo stesso. Di ragione, perché per noi è un errore, e sarebbe stato un errore, partecipare ad un Governo dove le forze politiche che la sostengono hanno avuto legittimazione di programmi opposti, di tese opposte, di valori tra loro non conciliabili. Ed è stata una scelta anche di cuore, perché avevamo giurato prima delle elezioni davanti ai nostri elettori che non avremmo mai partecipato a un Governo con il Partito Democratico, col Movimento 5 Stelle. Noi questa posizione l'abbiamo mantenuta con coerenza e con coraggio. E vede, se vogliamo andare ad alcuni temi, alcuni temi importanti per la nazione, si è parlato molto del Recovery Fund. Bene, questo è un insieme di piani che porteranno probabilmente l'Italia ad avere 200-210, a secondo dei casi miliardi a disposizione, la metà dei quali sarà destinata al settore delle infrastrutture. Allora, signor Presidente del Consiglio, io le chiedo, ma davvero si ritiene e ritenete che dopo 547 modifiche al Codice degli Appalti, dopo che non sono stati attuati ben 40 provvedimenti previsti dallo stesso, dopo che il settore degli appalti è bloccato dalle inefficienze di quel Codice. Voi pensate davvero che si possa prescindere da un cambiamento radicale di quelle norme? Noi non lo pensiamo. Noi riteniamo che si debba cambiare radicalmente. Lo volete fare? Anche fra un'ora, dopo la fiducia, avrete il nostro voto favorevole a quel cambiamento. Ed ancora sono passati meno di tre anni dal crollo del ponte Morandi, da quel tragico evento che ha portato nel lutto tante famiglie. Ed ancora siamo qui a chiederci se si farà una revoca del provvedimento di concessione ad autostrade per l'Italia o si farà ritirare il pacchetto azionario ad un gruppo composto da cassa depositi e prestiti e da due fondi internazionali stranieri al modico prezzo di 10 miliardi, così che la famiglia Benetton possa avere una liquidazione pari a 3 miliardi di euro. È questo che voi pensate sia l'interesse nazionale o ci volete proporre una soluzione che abbia veramente e a tutto tondo un interesse nazionale? Ed ancora, signor Presidente, su questi banchi e da questi banchi abbiamo chiesto di elevare il limite dell'uso del contante. Eravamo non soli a sostenere questa posizione. Il suo Governo finalmente deciderà di aumentare quel limite o sarà condizionato per l'ennesima volta da quelle forze, da quelle forze come il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle che a questa soluzione si sono opposti strenuamente. Ed ancora, in termini di sfratti, e vado alla conclusione, Signor Presidente, lei ritiene finalmente che in Italia si possa avere una legge equa che non scarica sui proprietari degli immobili tutte quelle che sono le responsabilità sociali in capo allo Stato o continuare a essere vittima di coloro i quali ritengono che la proprietà è e sia e rimanga un furto. E allora, Signor Presidente, noi abbiamo molto rispetto per coloro i quali spesso e volentieri ci richiamano all'importanza dei mercati finanziari, ma ne abbiamo molto di più per le persone che soffrono e che frequentano i mercati rionali, perché lì è la nostra gente. Signor Presidente, il voto contrario di Fratelli d'Italia, Signor Presidente, non ci impedisce peraltro di augurarle buon lavoro. La nostra, l'abbiamo detto, sarà un'opposizione patriotica di donne e di uomini chiari nelle idee, coerenti nelle proposte, coraggiosi nelle scelte. Ha chiesto interviene al deputato Michele Borro.